E' un forte, grande privilegio Conoscere più Dio tramite la sua parola Quando leggiamo la parola Non vogliamo leggere per vincere argomenti Non vogliamo leggere per gonfiarci di quanto conosciamo la Bibbia E non vogliamo leggere per poter fare tutto giusto In modo che Dio ci accetterà Perché non potremo mai fare tutto giusto Che Dio ci accetterebbe per quello Vogliamo leggere la Bibbia per conoscere il Signore Certo vogliamo conoscere i Suoi comandamenti Ma non sono comandamenti che dobbiamo fare per essere accettati No, vogliamo fare perché comprendiamo più chi è Dio E vogliamo più di Lui E stiamo studiando il libro di Josué E come ho detto l'ultima volta Credo che ogni volta che insegno un libro Vado più profondo Per forza e mi colpisce Perché non c'è stato un libro finora che ho insegnato E ne ho insegnato dei libri della Bibbia Ormai in questi 35 anni Che non mi colpisce Cioè libri che avevo visto buoni Ma non avevo visto le profondità Che vuol dire che noi scaviamo La Bibbia è un tesoro Che non esaurisce mai È un tesoro Noi siamo in Josué E che tante lezioni qui Infatti l'Antico Testamento ci fa conoscere Dio Ci fa conoscere noi stessi Perché vedo i peccati di Israele E finora non ho mai trovato un peccato di Israele Che in qualche modo non mi sono visto io E resta meravigliato che Dio non ha solo scartato via per sempre Ha disciplinato Ma per farli tornare a Lui Ma io non avrei fatto quello Io avrei scartato Ma no Dio li ha disciplinato per purificarli E ha benedetto grandemente Allora se ricordate Dio aveva detto ad Abrahamo Io dirò questa terra dove tu sei Alla tua discendenza Ma prima devono passare 400 anni in Egitto Come schiavi E hanno passato 400 anni in Egitto Poi Dio libera loro miracolosamente con Mosè Sappiamo Però Mosè aveva peccato Perciò non poteva Lui portarli dentro la terra promessa Dovevano girare a voto 40 anni per il loro peccato contro Dio E poi Dio alla morte di Mosè ha scelto Giosuè Come chi doveva prendere il posto di Mosè Capitolo 1 Dio ha detto Io sarò con te Io ti darò la vittoria Tu mi segui E Giosuè in tutto In tutto ha seguito Dio Giosuè è un esempio di seguire Dio Siamo arrivati al capitolo 9 Avendo passato Va bene Attraverso del Giordano Che Dio ha fermato le acque Avendo Visto la grande vittoria su Gerico Questa città con le grandi mura Come hanno vinto una città con grandi mura? Simone Come hanno potuto conquistare una città con le mura grandi? Con l'aiuto di Dio Sì ma che aiuto? Cioè non avevano degli attrezzi per buttare giù le mura Lì c'è tutti i ricordi? Ubbidendo a quello che Dio ha comandato di fare? Sì hanno ubbidito a quello che Dio ha detto di fare Grazie Come hanno potuto combattere contro la città con le mura forti e alte? Sì hanno girato intorno sette volte E poi sono diventati super uomini No mamma devo rivolgermi a te Come hanno potuto? Loro hanno fatto quello che Dio ha detto e avevano fede in lui E avendo fede Dio ha dato al loro successo la fine Dopo aver fatto una volta per sei giorni E il settimo giorno sette volte E il settimo giorno quando hanno fatto sette giri hanno gridato Poi cosa è successo? Sono crollate le mura Questo è un piccolo dettaglio Quindi non c'erano più le mura perché loro hanno gridato Ma Dio ha fatto Sono crollate le mura Non c'erano più le mura Ma c'era Loro potevano salire dentro Ecco come hanno vinto Perché Dio ha fatto crollare divinamente Era un miracolo E Dio aveva detto Però queste città non dovete prendere nessun bottino Niente E un uomo ha preso bottino Guarda questa roba Ha preso oro, argento e vestiti E per quello Dio ha punito tutto il popolo Hanno capito il peccato Si sono purificati Uccidendo quell'uomo Distruggendo lui Quello che aveva preso con la famiglia Perché Dio vuole un popolo santo Non dobbiamo uccidere le persone che peccano oggi Ma dobbiamo tenerci puri E poi sono tornato a una piccola città Dove erano stati vinti E hanno vinto loro Dio ha spiegato come Così Dio aveva fatto questi miracoli Attraversare il Giordano Dove Dio ha bloccato le acque Far crollare le mura di Jericho E dare grande vittoria Far vincere totalmente Che poi hanno distrutto Bruciato la città Capitolo 9 Adesso riprendiamo con capitolo 9 Ora, appena separo queste cose Tutti i re che erano di qual del Giordano Nella regione montuosa Nella pionura E tutto lungo la costa Del mar grande verso Libano L'Iteo, l'Amoreo, il Cananeo Il Perezeo, l'Iveo e il Jebuseo Si radunarono insieme Di comune accordo Per fare guerra A Giosuè e a Ristarelli Mi fermo qui Questo è un problema Tutti questi vari Le nazioni erano città con la zona intorno Era considerato un re qui Un re là Ogni città aveva il suo re Che controllava la città Più i paesini intorno Un po' come le province nostre E tutti questi re Che non sempre andavano d'accordo Ma a questo punto si sono tutti riuniti Tutti quanti dicendo Dobbiamo combattere Questo popolo Finché c'è tempo Però c'era una città Che ha avuto un'altra idea Versetto 3 Quando però Gli abitanti di Gabaon Vennero a sapere Ciò che Gesù Aveva fatto a Gerico E a Rai Giocarono di estuzia E si misero in viaggio Spiaciandosi Per ambasciatori Essi caricarono Sui loro asini Sacchi consunti E vecchi oltri Di vino strappati E rappezzati Si misero ai piedi I sandoli vecchi E strappati E addosso Vesti logore E tutto il pane Delle loro previste Era duro E spriciolato Allora cosa stanno facendo? Una bella truffa Si vestono con vestiti vecchi Con cibi vecchi Con tutto vecchio In modo che sembra Che siano in viaggio Da mesi Ok? Si preparano tutti Dobbiamo ingannare Questo popolo Allora ricordate Una cosa Prima che andiamo avanti Dio aveva ordinato E vedremo questo Ripetutamente Aveva ordinato A Giosuè Dovete Non fare Allianza Con nessuno Dovete distruggere Sterminare Tutti Allora c'è gente Ma perché Dio Ha detto di uccidere Perfino donne E bambini Perché Dio Conosce il cuore Di tutti E Dio Sapeva E questo è un esempio Anche spirituale Per noi Che per loro Era fisico Non dovete Essere Sotto un gioco Con questa gente Non dovete Permettere loro Di convivere In mezzo a voi Perché vi Contamineranno Quindi dovete Distruggere Questo popolo Perché io Do a voi Possesso Di questa terra Tutta la terra E non deve Vivereci nessun altro Se non solo Il mio popolo Che siete voi La terra Appartiene A Dio E lui Può fare Quello che vuole E se lui Dà Cinque anni Di vita Ad uno E lo Lascia morire Quindici anni Ad un altro Venticinque anni Ad un altro Quaranta anni Ad questo Sessantadue anni Ad quello E novantasette anni Ad quell'altro Chi siamo noi Per dire Che non è giusto A quello Di cinque anni Meritato qualcosa Da Dio A quello Di novantasette anni Meritato qualcosa Da Dio Ha meritato Novantasette anni Assolutamente no Dio è giusto In tutto Quello che fa E i problemi Che abbiamo Che vogliamo Giudicare Dio Con un metro nostro Ma non è giusto No Non è giusto Chi siamo noi Per dire Che quello Che Dio fa Non è giusto Scusate Se Dio Vuole Farmi Nascere Con un handicap Non è giusto Ma che non è giusto Non sa Il sovrano Dell'universo Quello che fa Ha Ha qualche debito Con me Che io meritavo Qualcos'altro Ha un debito Con me Dio Ha un debito Con me Assolutamente no E quindi Non dobbiamo Giudicare Dio Condannare Dio Perché fa Diversamente Di quello che io Vedo Come giusto Come se io Vedessi meglio di Lui Non è giusto Come che non è giusto Ho sentito Persone Dirmi Io non posso Credere In un Dio Che manda All'inferno Allora Se tu rifiuti Di credere In colui Che manda All'inferno Mandano anche te All'inferno Perché tu ti stai Mettendo sopra Di Dio Ma Dio Non solo Manda all'inferno Quello non è Una cosa che Mi sconvolge Meritiamo Quello Quello che mi sconvolge È un Dio Che manderebbe Il suo figlio A subire L'era di Dio Che meritano Peccatori Che meritano L'inferno Cioè Non è Difficile Capire No certo Meritiamo L'inferno Meritiamo Di essere allontanati Da Dio La cosa che non riesco A concepire È perché Ponerebbe il suo figlio Al posto di Peccatori E quindi Leggendo questo Josue Vediamo che In città dopo città Non so dove Arriviamo stasera In città dopo città Vediamo Che Dio Comanda loro Di sterminare tutti E lo fanno E quello che dobbiamo fare In genocchiarci Signore Non capisco Ma so che Tu sei giusto E quello che fai È giusto Quindi Con quello Questo popolo Sapendo Che loro Stavano Sterminando Tutti Vengono a loro Con astuzia Per Salvarsi La vita E va Andiamo Versetto 6 Andarono Tutti Travestiti Come Un lungo Viaggio Andarono Così Da Josue All'accampamento Di Gilgal E dissero a lui I pagani Sanno Qualcosa Che oggi Non è il caso Cosa capiscono In quello che abbiamo appena letto Che oggi Non è assolutamente Il caso Loro C'è un grande Presupposto Qui Cosa Presumano Qui L'ultimo Pezzo L'ultimo Versetto Che Dio E Josue E il suo popolo No Cosa 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 Dice L'ultima frase Che facendo Un'allianza Loro Resteranno Sicuro Loro Dicono Se voi Fate Allianza Sappiamo Che voi Manterete La parola Perché anche Noi Mantiamo Le parole Con Un' Allianza Pensate A questo Loro Dicono Ma se Voi Fate Un' Allianza Manterete La parola Perché sappiamo Un'allianza Non si rompe Noi non rompiamo Le nostre Allianze E sappiamo Che voi Non rompere Perché non è che Conoscevano I sorelli Bene Non Conoscevano I sorelli Bene La parola Oggi È una cosa Di cui Si fide Ciacamente La parola Di un Nemico Perché Erano Nemici Scusate Non erano Amici Erano Nemici Eppure Loro Sapevano Se voi Nostri Nemici Fate Un'alleanza E noi Sappiamo Di essere Al sicuro Questo È Estrepitoso Questo È Estrepitoso Questo Dimostra Quanto La società È cambiata Perché Oggi Perfino Amici Non Mantengono La parola Ma Per loro Era Scontato Se voi Fate L'alleanza E noi Sappiamo Di essere Al sicuro Ma Gli uomini E sorelli Di sposare Agli Hivei Forse Abitati In mezzo A noi Come Possiamo Stringere Allianze Con voi Cioè Scusate Dio Ci ha Comandato A non Fare Allianza Con nessuno Di questa Zona E forse Voi Vivete Qui Che vivevano Lì Otto Essi Dissero A Giosuè Noi Siamo Tuoi Servi Giosuè Disse Loro Chi Siete E Da dove Venite Cioè I I I I Avevano Dei dubbi Ma Qualcosa Puzza Qui Non Siamo Convinti Grazie Dio Allora Nove Allora Essi Li Risposero I tuoi Servi Sono Venuti Da un Paese Molto Lontano A motivo Del nome Dell'Eterno Il tuo Dio Perché Abbiamo Sentito Parlare Di lui E di Tutto Ciò Che Ha Fatto In Egitto Come Pure Di Tutto Ciò Che Ha Fatto Ai Due Re Degli Amore Di Là Dal Giordano A Sihon Re Di Heshpan E Og Re Di Bashan Che Abitava Ad Ashtaroth Perciò I nostri Anziani E Tutti I Abitanti Del Nostro Paese Ci Dissero Prendete 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 Delle Previste Per Il Viaggio Andate A loro Incontro E Dite A loro Noi Siamo Vostri Servi Fate Dunque Allianza Con Noi Questo E Nostro Pane Che Prendemmo Come Prevista Caldo Dalle Nostre Casi Il giorno Che Partimo Per Venire Da Voi E E Eccolo Duro E Spriciolato E Questi Sono Le Otri Di Strissandoli Che Si Sono Logorati A motivo Di Viaggio Molto Lungo Allora Stavano Mentendo Ma Facevano Una Storia Molto Convincente E Qui Vediamo Il Peccato Di Israele Versetto 14 Allora Gli Uomini Israele Presero Alcune Delle Loro Previste Ma Non Consultarono L'Eterno Il Versetto Più Importante Di Questo Capitolo Questo Il Loro Peccato Non Consultarono L'Eterno Allora Attenzione Loro Avevano Come Bibbia Solo Cosa Avevano Solo Abbiamo Visto Tutto Un Capitolo I Cinque Libri Di Mosè Ok Noi Abbiamo Tutta La Bibbia Perciò All'epoca Avendo Solo Quello Dio Ancora Guidava Loro In Modo E Eretto Perché Non Avevano La Bibbia Come Possiamo Noi Consultare L'Eterno Come Possiamo Consultare L'Eterno Assolutamente Non è Non è che Oh Signore Guidami Misticamente Mandami La Tua No Ci ha Già Mandato La Sua Parola Quindi Vado A Vedere Quali Sono I Principi Biblici Non C'è Decisione Dove Analizzando Pregando Non puoi Capire Sai In base Principi Chiari Chiari Principi Biblici Non Stare Lì A fare I Ragionamenti Quali Sono I Principi E se Non li Conosci Informati Loro Non Lo Fanno E così Vengono Inganati Perché Non Si Informano Da Dio 15 Così Josué Fece Pace Con Loro E Stipulò Con Loro Il Patto Di Lasciarli In Vita E Capi Dell'Assemblea Si Obbligarono Verso Di Loro Con Giuramento Non Consultando L'Eterno Hanno Fatto Un Patto Con Giuramento Si Sono Obbligati Noi Non Possiamo Mai Uccidervi Spesso E Questo Importante Spesso Il Nostro Peccato Ci Mette In Situazioni Dove Dopo Diventa Umanemente Impossibile Uscire Pensate A Questo Se Uno Si Sposa Senza Consultare L'Eterno E La Persona Giusta Aver Fede In Te Mi Sarà Un Aiuto O Un Ostacolo Nella Mio Fede Cammino Non Consultando L'Eterno Ma La Bibbia Non Dice Chi Sposare No Ma La Bibbia Dà Chiari Principi Che Magari Con Persone Sagge Che Non Sono Convolte Emotivamente Possono Aiutarti A Non Hai Il Cuore Che Stai Cercando Ma Se Uno Si Sposa Biblicamente E Sposato Non Può Dire No Spogliato No Tu Sei Sposato Devi Rimanere Sposato E Ci Ci Sono Tante Cose Che Facciamo Scelgo Un Certo Peccato Uso Un Esempio Bruttissimo Ma Vero Un Giovani Con Qualunque Età Ma Dico Giovani Scegli Di Commettere Fornicazioni Non Può Tornare E Dire Ma Comunque Sono Ancora Puro No Non Sei Più Puro Cioè Può Essere Perdonato Ma Non Puoi Tornare Nella Condizione Di Prima Vai Con Un Peccato Tu Può Essere Perdonato Ma Non È Che La Reputazione Torni Indietro No Adesso Hai Quella Reputazione Quindi Non Consultare L'Eterno Uscire Dalla Volontà Di Dio Diventa Un Legame Che Ti Lega Per La Vita E Così Loro Fanno Questo Adesso Versetto 16 Ma Tre Giorni Dopo Che Avevano Stabilito Il Patto Con Loro Vennero A Sapere Che Quelli Erano Loro Vicini E Abitavano In Mezzo A Loro Che Triste Non Tre Anni Non Tre Mesi Quanti Giorni Tre Giorni Se Avevano Stipolato Martedì Venerdì Scoprono Sono Di Quei Vecino Sono Popoli Che Con Cui Dovevamo Assolutamente Non Fare Allianza Ma Era Troppo Tardi Era Troppo Tardi Dicisette Allora I figli D'Israeli Partirono E Giunsero Alle Loro Città Il Terzo Giorno Or Le Loro Città Erano Gabaon Caffira Beroth E Kiriath Jearim Ma I figli D'Israeli Non Li Uccisero Perché I Capi Dall'Assemblea Avevano Loro Giurato Nome Dell'Eterno Il Dio Di Israele Tutta L'Assemblea Però Murmurò Contro I Principi Erano Giustamente Agitati Perché Avete Accettato Di Fare Questo Perché Non Avrebbero Dovuto E Perché Avevano Fatto Questo Patto Perché Non Consultarono L'Eterno Non Si Sono Informati Se La Cosa Era Secondo Dio O No Adesso Erano Obbligati A Non Ucciderli 19 Allora I Principi Dissero All'intera Assemblea Noi Abbiamo Giurato Loro Nel Nome Dell'Eterno Il Dio Di Israele Perciò Non Li Possiamo Toccare Questo Faremo Loro Li Lasceremo In Vita Per Non Atterarci Adosso L'Ira Dell'Eterno A motivo Del Giuramento Che Abbiamo Fatto Loro I Capi Dissero Loro Vivono Pure Massino Tagli Legna E portatori Di acqua Per tutta L'Assemblea Come i Principi Avevano Loro Detto Quando Pecchiamo Non Informandoci Di cos'è La volontà Di Dio Ci Crea Grossi Problemi E Possiamo Cercare Di Ricuperare Ma Non Arrivaremo Mai A dove Avremmo Potuto Essere Quindi Quindi Questo Popolo Pagano Continuava A vivere In mezzo A loro Ok 22 23 Poi Giosuè Li chiamò E parlò Loro Dicendo Perché Ci avete Inganato Dicendo Noi Abitiamo Molto Lontano Da voi Mentre Abitate In mezzo A noi Ora Dunque Siete Maledetti E Non Cesserete Mai Di essere Schiavi Spacca Legna E Portatori Di Acqua Per La Casa Del Mio Dio Quindi Lui Lì Cos'è E Frustrazione E Frustrazione E In un Certo Senso Perché Ci avete Inganato Invece Di Perché Non Abbiamo Noi Consultato L'Eterno Non Invece Ma È Colpa Vostra No Non Era Colpa Vostra Era Colpa Nostra Così Vi Lasceremo Però Siete Sempre Schiavi Ok Ma Non Risolvi Il fatto Che Restarano In mezzo 24 Allora Essi Risposero A Gesù E Dissero Era Stato Chiaramente Riferito Ai Tuoi Servi Che Il Tuo Dio L'Eterno Aveva Comandato Il Tuo Servo Mosè Di Darvi Tutto Il Paese E Di Sterminare Davanti Voi Tutti Gli Abitanti Del Paese Perciò Noi Abbiamo Grandemente Temuto Per Le Nostre Vitte A Causa Cosa Vostra Abbiamo Fatto Questo E Allora Eccoci Nelle Tue Mani Fa A Noi Come Ti Sembra Buono E Giusto Una Cosa Che Mi Colpisce Questa Gente Avevano Un certo Fede In Dio Ok Avevano Sentito Di Quello Che Dio Aveva Fatto Di Quello Che Dio Aveva Comandato E Ci Credevano Loro Capivano Quello È Il Vero Dio E Lui Darà Loro Vittoria E Loro Passeranno Nel Paese E Vinceranno Su Tutti Loro Ci Capivano E Quindi In Questo Senso Avevano Timore Di Dio Allora 26 Giosuè Li trattò dunque così Li liberò Dalle mani Dei figli D'Israele Perché Questi Non li Uccidessero Ma In quel Giorno Li destinò Ad essere Spaccalegna E portatori Di acqua Per l'assemblea E per L'altare Dell'Eterno Nel luogo Che Egli Avrebbe Scelto Fino Al giorno Di Oggi Furono Accettati Per il Gioramento Per la Parola Data Dovevano Essere Come Schiavi Servi Ma Potevano Vivere Per sempre E per Dio Quella Parola Valeva Se Io Do Una Parola Che Non Dovevo Dare Ma Do La Parola Cosa Devo Fare Salmo 15 Versetto 14 Trovate Trovate Quello Salmo 15 Versetto 14 Scusami Non 14 1 A 4 Ho letto Male Salmo 15 Da 1 A 4 Voglio Leggere Quello E Notate Quello Che Dice Questo È Utile Per Il Principio Che Vediamo Qui O Eterno Chi Dimorerà Nella tua Tenda Chi Abiterà Sul tuo Santo Monte Colui Che Cammina In modo Irreprensibile E Fa Ciò Che È Giusto E Dice La Verità Come L'ha Nel Cuore Che Non Calunnia Con La Sua Lingua Non Fa Acun Male A Suo Compagno Non Lascia Acun Insulto Contro Il suo Prossimo Ai suoi Occhi È Disprezzata La Persona Spregevole Ma Egli Onora Quelle Che Temono L'Eterno Anche Se Ha Giurato Suo Danno Egli Non Ritratta Mi Fermo Lì Anche Se Ha Giurato Suo Danno Egli Non Ritratta Cosa Vuol dire Quello Se Lui Giura Lui Mantiene La Parola Anche Al Proprio Danno Questo Importante Questo Importante Se Lui Non Valuta Bene E Dà Una Parola Di Fare Una Cosa Però Lo Creerà Danni Sì Sì Te Lo Vendo Per Duemila E Poi Scopro Oh Vale Sei Cosa Fa Cosa Fa Senti Non Avevo Crito Il No Io Ti Ho Detto Te Lo Vendo Per Duemila Vale Sei E Io Te Lo Vendo Per Duemila Perché Ti Ho Detto Quello No Ma Questo Parla Di Giuramento Questo Parla Solo Di Giuramento E Cosa Dice Gesù A proposito Nel Nuovo Testamento Giuramento Cosa Dice Gesù A proposito Nel Nuovo Testamento Di Giuramento Dice Ok Dice Di Non Giurare Invece Il Vostro Si Sia Si E Il Vostro No Sia No Più Di Quello È Malvagio E Voglio Pensare A Quello Perché Sarebbe Malvagio Di Giurare Ma Gesù Fa Un Confronto No Non Giurare Piuttosto Il Vostro Si Sia Si E Il Vostro No Sia No Perché Se Voi Dovete Giurare Cosa Implica Del Sì E No Che Non Sono Non Sono Affidabili Se Solo Dico Sì Non Importa Se Non Mantengo La Parola Solo Se Do Un Giuramento Puoi Fidarti Di Me Ma Allora Vuol dire Che Va Bene Mentire Costantemente E Solo Se Giuro E Gesù Dice Questo Malvagio Perché Vuol dire Che Non State Dicendo No Basta Congiorare Il Vostro Si Sia Sì Tu Dici Sì Lo Fai Quindi Quando Dice Che Se Uno Fa Un Giuramento Anche Il Suo Danno Non La Ritratto Non Ritratta Vuol dire Che Gesù Dice Guarda Ti Vendo Quello Per Duemila Hai Dato Una Parola E Se Dopo Dice Quello Vale Sei No Io Ho Detto Duemila Ho Detto Duemila Se La Persona Per Conto Suo Dice No Guarda Mi Sono Informato Quello Vale Sei Non Ti Do Due Ti Do Sei O Ti Do Cinque Quello Che Quello Può Fare Lui Ma Tu Devi Vendere Per Duemila Se Tu Mantieni La Parola Così Una Cosa Che Ti Farà Ti Far Più Attento Ti Farà Più Attento Quello Che Dici Che È Giusto Dovremmo Essere Uomini E Donne Prudenti Che Valutano Tutto Allora Varie Lezioni Qua Nel Mondo In Qui Viviamo Il Peccato Sta Sempre Cercando Di Inganarci E A Volte È Molto Convencente A Volte Uno Può Fare Un Bel Filo Un Argomento Che Fila Perfettamente Per Convincerci Di Fare Qualcosa Che Va Contro Dio Però L'argomento Fila Da A Z Parlavamo In Caso Di Questo In Questi Giorni E Tutti Questi Argomenti Ah Sì Ma Quello Non È Senso 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 Non Era Da Dio E Se Uno Non Consulta L'Eterno E Come Si Consulta L'Eterno Con I Chiari Principi Di Dio Può Essere Inganato Perché Una volta Che Fai La Decisione Ha Fatta La Decisione Allora Certe Cosi Puoi Riterrarti A Grandi Costi A Grandi Danno Certe Cose No Però Ti Non Saggio E A Volte Il Danno Più Grande E La Decisione A Volte Il Danno Più Grande Non È La Decisione Ma È Come Prendere La Decisione Perché Ti Abitui A Prendere Decisioni Senza Consultare L'Eterno E Forse Quella Volta Non Porta Tanto Male E Un'altra Volta Non Porta Tanto Male E La Terza Volta Non Porta Tanto Male E Ti Abitui E Poi La Quarta Volta Porta Tanto Male Ormai Sei Abituata E Quindi O Che Possiamo Noi Capire Il Pericolo Di Non Consultare L'Eterno Di Non Beh Ma Dai Vivono Lontani No Non È Male Sì Va Bene Facciamo L'Alleanza Ma Scusami L'iniziativa Di Fare L'Alleanza Veniva Da Chi Da Chi Da Questo Popolo Non Veniva Da Dio Dio Non Aveva Detto Questo Ma Se Dovesse Venire Un Popolo Da Lontano Non Aveva Detto Nulla A Proposito Veniva Da Loro E Già Infatti Avete Capito Che Già La Coscienza Diceva Ma Siete Veramente Da Lontana Dove Venite Cioè Capivano Qualcosa Non Va Qui Qualcosa Non Va E Comunque Non Hanno Consultato L'Eterno O Che Possiamo Essere Un Popolo Che È Molto Prudente E Non Impulsivi Quanti Giorni Erano Da Quando Hanno Fatto Alleanza Che Hanno Scoperto Tre Giorni Che Vuol Dire Senti Facciamo Un po' Di Indagini Informiamoci Bene No Però Tre Giorni Dopo Si Sono Informati Purtroppo Ho conosciuto Persone Nella vita Che Hanno Prese Decisioni Grandi Ho Conosciuto Persone Mi Spezzo Il Cuore Questo Che Si Sono Sposati E Nell'arca Di Una Settimana Ho Spagliato Ho Spagliato Ma Sei Sposato Non Puoi Dire Ho Spagliato Cancello Il Matrimonio Quello Non Vale Davanti A Dio Tu Sei Sposato E Ho Conosciuto Parecchie Persone Grandi Che Gli Hanno Creato Tanti Danni E Subito Dopo Hanno Capito Perché Non Avendo Consultato L'Eterno Avrebbero Potuto Capire Subito Appena Prima Se Avessero Preso Il Tempo Di Consultare L'Eterno Che Oggi Vuol dire Va bene Andare a Vedere La Bibbia Ma Non Vuol dire Solo Quello Magari Se Io Sono Soprattutto Giovane La Fede Io Posso Andare A Legger Neanche Non So Dove Cercare La Mia Bibbia Ha Mille Pagine Dipende Dalla Versione Che Hai Ma Dove Vado A Cercare Quindi Come Posso Consultare L'Eterno In Un Caso Così Come Chiedendo Consigli A Conoscere La Bibbia Molto Medi Di Me E Dicendo Mi Aiuti A Capire I Principi Di Dio E Da Dove Vengono Cioè Io Voglio Vedere I Principi Ma Non Sono Neanche E Loro Possono E Dovrebbero Essere In Grado Di Mostrarci E Così Con Cautela Ma Se Io Ci Tengo Nella Mia Mente Penso Ad Un Giovane Uomo Una Donna Abbiamo Conosciuto Entrambi Che Voleva Sposare Quella Persona E Dice Ma Guarda Guarda No Ma Dai Ma Non Lo Vedo Così Dai Allora Perché Avevano Opposizioni Al Consiglio Senti Non è il caso Di Comprare Quello Costa Troppo Per Te Ti Metti Sotto Un Gioco Ma No Ma Io Riesco A pagare Allora Questo È Cercare La Volontà Di Dio O Questo È Cercare Di Fare Quello Che Hai Deciso Che Vuoi Quello Non È Consultare L'Eterno Consultare L'Eterno Vuol dire Signore Io voglio fare La Tua Volontà Anche se Vorrei Quello Ma Se Non È La Tua Volontà Io Lo Concello Invece Sì Ma Dai Ma Non Lo Vedo Come La Vedi Tu Perché Io Voglio Quello Poi Dopo Vengono I Dolori Prego Che Possiamo Essere Un Popolo Che Voglia Fare La Volontà Di Dio Consultiamo L'Eterno Tramite La Parola Tramite I Consigli Di Conoscere Bene La Parola E Padre Non è Solo Israele In Questo Caso Che Non Ti Ha Consultato Quante Volte Noi Non Ti Abbiamo Consultato Quante Volte Noi Abbiamo Deciso Una Cosa Per Testa Nostra Questo Esempio Purtroppo Conosciamo Troppo Bene E Quante Volte Noi Abbiamo Combinato E Creato Male Oh Padre Grazie Per Questo Insegnamento Grazie Per Questo Esempio In Questo Caso Brutto Che Ci Insegna Una Lezione Importante Perdonaci Per Le Volte Che Siamo Stati Stolti Non Fermandoci A Consultarti Con Cura Prima Di Prendere Una Decisione Aiutaci A Essere Un Popolo Che Che Si Informa In Modo Profondo Prima Di Prendere Decisioni E Grazie Che Tu Vuoi Guidarci Tu Ci Hai Proveduto Tutto Ciò Che Ci Serve Per Capire La Tua Volontà Certo Io Posso Andare Soprattutto Se Non Conosco Benissimo La Bibbia E Non Trovare Per Ogni Cosa Ma Chi Conosce Bene Può Aiutarmi A Trovare Prego Che Seremo Quel Popolo Per Non Cadere Negli Errori Come Vediamo Qui Come Vediamo Nelle Nostre Vite Nel Passato Prego Che Possiamo Essere Un Popolo Che Con Umiltà Cerca Sempre Qual È La Tua Volontà O Signore Per Camminare Così Nella Luce Perché Vogliamo La Tua Benerezione Grazie Padre Per Questo Esempio Questo Caso È Un Esempio Brutto Ma Un Esempio Utile Prego Che Possiamo Camminare Al Contrario Nel Nome Di Gesù Cristo E Nostro Signore Amen Ti Voi Nose Voi Voi Duary